Benvenuti ad un nuovo episodio di Lariatto, io sono Michele, una delle voci di questo progetto e oggi sono qua per parlarvi di DDT, più precisamente del Kingdom of DDT la ventesima edizione di questo torneo che è iniziata lo scorso weekend, più precisamente il 5 maggio è giornata che ha visto chiudarsi proprio tutto il primo turno quindi tutti gli 8 match che facevano parte della prima fase, dei primi gironi di questo torneo torneo che continuerà poi il prossimo weekend, cioè l'11 maggio con il secondo turno e poi si chiuderà il 26 con semifinale e finale, quindi 3 giorni per cercare di raggruppare nel meno il tempo possibile tutto il torneo e poter strutturare bene tutte le situazioni, tutte le faide, tutte le storie che potrebbero poi evolversi dal Kingdom of DDT in poi, perché effettivamente guardando i nomi che sono inseriti in questo torneo e guardando un po' gli incroci, ci sono diverse cose potenzialmente interessanti di diverse cose che potrebbero creare anche qualcosina di bello per il futuro all'interno della DDT ci sono tanti nomi importanti anche un po' per la parte più storica ma anche tanti nomi che in futuro potrebbero prendersi una bella fetta di importanza all'interno proprio di questa promotion quindi hanno fatto un ottimo lavoro secondo me con questo torneo diciamo che la DDT lavora sempre molto bene per quanto riguarda i tornei e anche qua ha creato un bel po' di hype, un bel po' di motivazione nel cercare di seguirlo e capire meglio un po' le dinamiche e la struttura di questo torneo ma andiamo subito più nello specifico parlando dei match il primo match ha visto Maho battere Poison, Sawa da Juli avevamo presente la nuova generazione, Maho che comunque è in giro da un po' ma di fatto è la nuova generazione contro un veterano Poison, Sawa da Juli che conosciamo relativamente poco all'interno della DDT nel senso che io che l'ho iniziato a seguire da qualche anno l'ho perso completamente quindi Juli l'ho visto qualche volta è apparso spodicamente perché lui di fatto è ritirato si è ritirato nel 2012 se non ricordo male quindi fa qualche apparizione, fa qualche match ma ha 60 anni e fa un po' fatica su alcune cose quindi il match è venuto divertente va benissimo come primo match del torneo va benissimo perché dall'altra parte hai Maho che quindi riesce a giocarsela bene anche con questa cosa della magia, della stregoneria riesce poi a portare un po' più di quella verve che serve all'interno dell'incontro è andato bene così era giusto che passasse Maho al match va bene, guardatelo ma non è niente di eccezionale serve proprio da primo turno in realtà è normale avendo tanti incontri hai anche quelli un po' più deboli in cui si cerca di costruire qualcosina ma servono solo per scaldare un po' i motori in vista poi dell'incontro successivo di quelli verso fine giornata dove c'è un po' la parte più importante del torneo continuando però sempre con il King of TvT abbiamo Toei che batte Kanon un match che è venuto tendenzialmente bene se poteva fare effettivamente qualcosina di più ma sappiamo, l'ho già detto tante volte Kanon è un po' coi freni tirati potrebbe fare effettivamente di meglio, sì ma un po' per la gimmick un po' per la stable in cui è un po' probabilmente perché lui non riesce effettivamente a mettersi così tanto in mostra è sempre un pochettino indietro rispetto agli altri Toei sta facendo bene è difficile probabilmente per lui essere una stable così importante come Kamina dove appunto deve lavorare con nomi come Ueno, Mao, Shunma prima c'era Takeshita cioè hai comunque probabilmente la stable più importante all'interno della DDT e anche quella con un po' i fari puntati addosso perché effettivamente essendo la vecchia stable di Takeshita anche per uno che magari viene dall'All Elite un fan dell'All Elite che viene a seguire la DDT scopre che effettivamente Takeshita era in coppia con Ueno, Mao e gli altri vuole un attimo capire come stanno andando le cose quindi per lui probabilmente è un po' più difficile si sta comportando bene ha vinto un buon torneo con D-Generation Cup qua ha fatto un buon match con Kanon che si porta avanti qualcosina di interessante perché effettivamente così di fatto nel secondo round Toei deve battersi contro Mao e potrebbe essere un buon scontro per lui per capire effettivamente quanto gli manca per arrivare a lavorare con i grandi quindi sono curioso di capire come andranno le cose può venire fuori comunque un ottimo match perché Mao è uno di quelli che riesce effettivamente poi a mettere in mostra anche l'avversario sempre e comunque nel bene o nel male cerca sempre comunque di tirare fuori qualcosa di bello anche dall'avversario che si trova davanti quindi vediamo come andranno le cose nel prossimo weekend ma spero in qualcosa di effettivamente bello così come spero in qualcosa di effettivamente bello nel prossimo turno nel secondo turno anche per quanto riguarda Takagi che nella prima fase ha battuto Ueno in un match strano particolare perché in realtà tutti si aspettavano la vittoria di Ueno perché sembrava la cosa più logica più normale in realtà c'è una sottotramma che magari a qualcuno è sfuggita o magari qualcuno non ci ha pensato ma nella mia testa era normale la vittoria di Takagi un po' perché comunque Ueno è campione quindi devi cercare di toglierlo il prima possibile dai giochi da una possibile vittoria all'interno del torneo e un po' hai comunque questa faida che sta andando avanti da un po' tra Sanshirobo che è questa versione robot mummia di Takagi e la versione tirannosauro di Mao che quindi loro hanno già fatto un match in Bakagaijin vinto da Sanshirobo hanno già fatto un paio di situazioni tag dove si sono scontrati in DDT se effettivamente c'è una possibilità di averli uno contro l'altro di nuovo all'interno di un torneo potrebbero effettivamente ritrovarsi in insieme finale Mao e Takagi con loro due che potrebbero apparire nella loro versione appunto Sanshirobo e tirannosauro di 9 e scontrarsi di nuovo mandando poi avanti Mao perché il primo match in singolo aveva vinto Takagi quindi potrebbero effettivamente fare questo gioco che sicuramente sarebbe anche interessante e divertente per far vedere comunque la follia della DDT perché ogni tanto tira fuori delle cose folli e Mao è uno di quelli che può effettivamente fare delle cose folli se dall'altra parte è Takagi che è un altro di quelli che quando c'è a fare delle robe senza senso si lancia subito con prepotenza viene fuori sicuramente qualcosa di bello e carino intanto il match con Ueno non è venuto affatto male soprattutto visto il livello di Takagi che giustamente non è più in forma come lo è Ueno però è giusto che abbia vinto lui proprio perché hai comunque una possibile storia da portare avanti e hai un Ueno che prima esce meglio è dall'altra parte abbiamo avuto Daisuke Sasaki che ha battuto Yukino in un match tendenzialmente brutto mi dispiace dirlo ma è stato un po' lento abbastanza noioso un po' sullo stile di Sasaki che abbiamo già visto tante volte comunque fare questo tipo di incontro dove lui effettivamente potrebbe fare qualcosina di più potrebbe lavorare bene ma non lo fa praticamente mai Ino sta cercando di costruirsi bene di fare qualcosa con Endo si sta trovando bene in coppia in singolo deve ancora prendere un pochettino le misure come Sasaki ha fatto fatica il match è dimenticabile abbiamo visto un Sasaki andare avanti si scontrava con Takagi e vediamo come andranno le cose ma non mi aspetto un secondo round così fenomenale diciamo che è stata la parte più brutta per quanto riguarda secondo me il primo turno cioè il match Sasaki e Ino è stato uno di quelli che effettivamente mi ha deluso un pochettino di più però vabbè ci sta è normale non può venire tutto sempre bene non può venire tutto perfetto qualcosa che va storto c'è sempre dall'altra parte del del girone abbiamo avuto invece i Gucci che ha battuto Yukio Naya i Gucci che ha fatto coppia tante volte con Naya si conoscono bene sono due che in qualche modo hanno anche delle cose simili a livello di moveset a livello di impostazione del diciamo del match in quanto entrambi sono molto grossi molto improntati sulla parte più powerhouse e quindi avevano delle similitudini ma i Gucci è una spanna sopra Naya so che la DLT ci punta molto su Naya ma i Gucci è comunque più più valido sia come lottatore sia come personaggio e anche qua c'è una storia che poi vi dirò quando parlerò del match successivo c'è una storia che serviva i Gucci portare avanti e quindi è giusta la sua vittoria il match comunque non è venuto male per quello che potevano fare per quello che potevano dare sono andati abbastanza di prepotenza e di potenza anche quindi è riuscito qualcosa di carino interessante i due potevano in un'altra situazione fare magari leggermente qualcosina in più però anche qua è il primo turno avevi tanti match da fare quindi il minutaggio è un po' più stringato e quindi ci teniamo quello che è avvenuto sono contento comunque per i Gucci che ha fatto delle ottime cose in singolo anche con il con il titolo ma comunque è un anno che zoppica un pochettino fa un po' più fatica questo qua potrebbe essere un torneo dove effettivamente riesce un attimo a rimettersi in pista e poi magari dopo il King of DDT riusciamo a vedere un un Iguchi in piena forma vediamo me lo auguro perché effettivamente è un dottore che mi piace molto e se effettivamente lo vedo poi nella forma migliore sono più contento su quello ci sono pochi dubbi ma parlando del match successivo abbiamo avuto Shuji Ishikawa che ha battuto Arashima e qua si ricostruisce la storia che vi stavo dicendo prima cioè Iguchi nello show dell'anniversario della DDT quello di metà marzo è stato schienato da Ishikawa si è preso il pin in un match di coppia e quindi deve riprendersi la sua rivincita e per farlo deve avere a un certo punto di fronte Ishikawa e quindi nel secondo round vedremo proprio un Iguchi contro Shuji Ishikawa che sta apparendo un po' dappertutto l'abbiamo visto in Noah sta facendo un bel po' di cose e qua ha fatto un buon match con Arashima mi aspettavo leggermente qualcosina di più ma più che altro perché Arashima probabilmente ha tirato fuori quelli che vengono detti banger comunque ultimamente ha tirato fuori delle cose veramente belle e quindi speravo in un match leggermente diverso non è venuto male più che sufficiente si sono trovati abbastanza anche vista comunque l'età anche visto il tipo di fisico che hanno entrambi che comunque vanno verso i 50 quindi è ovvio che qualcosina in meno devono fare però è venuto fuori comunque qualcosa di carino divertente sono curioso di capire come andrà con Iguchi perché nella mia testa è abbastanza logica la vittoria di Iguchi per la rivincita su Ishikawa ma sarebbe curioso vedere anche un Ishikawa che va avanti e poi riesce ad andare verso la finale non in finale magari però verso la finale quindi vediamo come andranno le cose c'è un po' di movimento e un po' di curiosità l'hanno messa sicuramente anche con con questo secondo turno ci sono un po' di storie che effettivamente se guardiamo anche i mesi passati dalla DDT si stanno incastrando bene all'interno di questo torneo quindi l'hanno studiata bene l'hanno l'hanno giocata sicuramente bene come hanno giocato in realtà abbastanza bene il match sta Tetsuya Endo e Danshoku Dino match che è uno di quei match dove non sai esattamente cosa aspettarti perché Dino si non è più il Dino dei Ferromons ma comunque molte cose che ricordano il Dino dei Ferromons Endo è uno di quelli che si mette un sacco in gioco e l'ha dimostrato anche con questo incontro dove sono finiti ovviamente in mutande sono finiti ovviamente nelle solite situazioni da da Ferromons è riuscito a divertirmi ha funzionato come tipo di incontro è giusta la vittoria di Endo anche perché inizia a costruire qualcosina di un po' più grande con comunque Oishi che fa coppia con Dino che cerca di aiutarlo ma fallendo miseramente e quindi si aprono un po' di spiragli anche per i titoli trios per i titoli di coppia ci sono un po' di cose che potrebbero muoversi dopo questo torneo intanto Endo si porta a casa una vittoria strana e particolare ma comunque importante contro Dino cosa ancora più interessante dal mio punto di vista è quello che succede dopo l'incontro cioè El Desperado che arriva con una busta il 10 giugno ci sarà uno show organizzato proprio dal Desperado con quelli che lui definisce i suoi amici i suoi conoscenti quello che è il Despe Invitational e l'invito è proprio per Dino quindi il 10 giugno avremo Dino all'interno di questo show fa strana come scelta fa strana come scelta perché effettivamente ci sono tanti nomi all'interno della DDT che potrebbero far bene in qualcosa organizzato da El Desperado sicuramente quello che meno ti aspetti è Dino e quindi mette ancora più curiosità perché hanno citato i Ferromons hanno citato alcuni potenziali amici di Dino alcuni con cui potrebbe fare coppia con cui potrebbe andare uno contro l'altro quindi ci sono un po' di cose che effettivamente si stanno muovendo anche qua si sa ancora molto poco di questo show ma cercherò di recuperarlo poi capiremo dove sarà disponibile come sarà disponibile ma sono curioso e voglio capire un attimino come sarà organizzata la card anche perché da quello che so in realtà si saprà molto poco fino alla messa in scena cioè sì qualche nome ovvio che ci sarà e verrà citato in giro però l'idea del Desperado è proprio quella di organizzare uno show praticamente al buio quasi tutto a sorpresa e poi cercare di creare qualcosa di strano anche per il pubblico quindi vediamo 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 perché mi ricordo un po' l'inizio di Bakagaijin e sono curioso di capire come andranno le cose vista anche proprio l'amicizia con Chris Brooks sicuramente Brooks apparirà all'interno di questo Eldespe Invitational vediamo come andranno le cose e a proposito di Brooks Chris Brooks ha battuto Takeshi Masada in quello che è stato sicuramente il match più interessante a livello di lottato anche proprio per come è stato impostato cioè con un Brooks che ne ha prese tante per cercare di mettere in mostra uno dei suoi pupilli cioè Masada match che è andato esattamente al contrario di quello che avevo pronosticato la settimana scorsa cioè nella mia testa era abbastanza logica la vittoria di Masada per iniziare a costruire un nuovo percorso per lui cercando di staccarsi almeno momentaneamente da Chris Brooks dargli quella spinta in realtà una spinta l'ha avuta lo stesso anche con questa sconfitta soprattutto perché Brooks è arrivato con Zack Sabre Jr con cui ha fatto copia con cui farà copia anche nelle prossime nei prossimi giorni mi sembra o forse no l'ha già fatto copia forse in All Together mi sto incasinando in All Together probabilmente quindi è stato anche un modo per fare un attimo in un gancio sugli altri show loro due sono molto amici Zack Sabre Jr aveva la maglia della stable di Chris Brooks si conoscono e ci sta anche un attimo per diciamo il buzz mediatico portarselo dietro portarselo a bordo ring il match è venuto bene Masada si è comportato bene è riuscito ad avere un buon minutaggio cosa che gli era mancata nell'incontro con Mao e prima o poi ci diranno effettivamente per quale motivo è andato così l'incontro con Mao al momento non si sa ancora nulla e quindi Masada comunque ha vinto in qualche modo perché si è preso comunque un buon un buon spotlight vediamo anche per lui come andranno le cose dopo il torneo perché secondo me potrebbero puntarci effettivamente su un nome come quello di Masada perché è molto giovane ha un sacco di potenzialità fa molto bene il suo lavora molto bene sia su ring sia anche come personaggio ha lavorato anche a Bakka Gaijin e ha fatto molto bene quindi bisogna sfruttarlo secondo me finché c'è bisogna sfruttarlo il più possibile ed è anche per quello che Brooks se l'ha portato un attimo dietro probabilmente ci ha visto qualcosina Brooks che ha lanciato questo gancio che quindi si chiuderà in un nulla di fatto cioè visto che ha vinto l'anno scorso vuole fare il cosiddetto back to back cioè arrivare a vincere anche quest'anno il torneo non ce la farà perché è sbagliato di fatto fargli vincere un'altra volta il torneo nel senso che l'anno scorso stavo dicendo la settimana scorso vabbè l'anno scorso c'era una una storia c'era tutto un percorso giusto per arrivare a una sua vittoria adesso in singolo sta facendo un po' più fatica dovrebbe concentrarsi dal mio punto di vista più nei match tag nei match multiple e cercare di spingere su altri altri punti quindi va bene è un nome comunque interessante andrà controendo quindi sicuramente il match verrà molto bene però non è il nome su cui punterei per far vincere ancora una volta il King of TdT sicuramente ci sono un po' di cose in ballo per il secondo round sicuramente la curiosità come vi dicevo prima c'è quindi lo guarderò appena sarà disponibile cioè sabato e poi cercherò di parlarvene il prima possibile io vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo video fatemi sapere nei commenti se state seguendo il King of TdT se avete qualche pronostico interessante su possibili vincitori o su possibili situazioni che si vengono a creare poi da questo torneo in poi se avete già in mente qualche possibile storyline nella mia testa un nome possibile per la vittoria è quello di Maho più che altro perché non l'ha mai vinto è un nome su cui stanno puntando anche con la parte comunque in America sta facendo diverse cose anche a livello tra virgolette internazionale e poi mi sono fatto un po' questa idea che potrebbe essere anche un modo per unificare i titoli cioè diciamo che hanno questi due titoli l'universal e l'open weight che hanno più o meno lo stesso livello di importanza e quindi si potrebbe anche iniziare ad avere un'idea di unificarli per togliere comunque un titolo dalla DDT che ne ha già tanti molti sono praticamente inutili o poco utilizzati se si inizia a smaltire un po' anche quella parte titolata potrebbe essere una cosa buona e giusta io vi ringrazio ancora quindi per essere arrivati alla fine di questo video vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo episodio di L'Ariatto di L'Ariatto